Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo all'incontro tra i rappresentanti ENI e gli appaltatori locali appartenenti a Confindustria e a Lega Copp si è parlato del progetto Argo Cluster in base al quale gli impianti di trattamento saranno spostati da mare a terra e non cancellati saranno costruiti sulla terraferma recuperando alcune aree della raffineria non più utilizzate in seguito alla riconversione in green refinery e su cui sono stati già avviati i cantieri per il risanamento ambientale Lo sviluppo dei campi a gas di Argo e Castiopea, uno dei progetti principali del protocollo d'intesa per l'area di Gela siglato il 6 novembre del 2014 al Mise, è stato al centro dell'incontro che si è svolto ieri presso la sede della società Enimed di Gela tra i rappresentanti ENI e gli appaltatori locali appartenenti a Confindustria e a Lega Copp un confronto che ha permesso ad Eni di illustrare lo schema Argo Cluster in base al quale gli impianti di trattamento saranno spostati da mare a terra e non cancellati rispetto a quanto previsto in precedenza Saranno costruiti sulla terraferma recuperando alcune aree della raffineria non più utilizzate a seguito della riconversione in green refinery e su cui sono stati già avviati i cantieri per il risanamento ambientale L'unica struttura non più funzionale al progetto è costituita dal supporto metallico traliccio che nel caso base sosteneva gli impianti in mare Il resto del progetto e quindi l'investimento complessivo rimarrà pressoché invariato Per Rosario Maru, presidente di Confindustria Centro Sicilia, si continua a lavorare in modo serrato per sostenere le imprese del territorio in un clima di grande serenità e di grande collaborazione con Eni e con i sindacati Il progetto Argo Cluster di Giammaru rappresenta una grande opportunità per le imprese locali perché permette di utilizzare le nostre professionalità e il nostro know-how in maniera molto più intensa rispetto a quanto era previsto con il precedente schema L'incontro di ieri e quindi la presentazione del progetto Argo Cluster sia e rimanga un'opportunità per il territorio A differenza di quello che era il progetto iniziale che prevedeva la realizzazione di una piattaforma a mare e quindi tutte le facilities per la realizzazione di questa piattaforma chiaramente aveva pochissime ricadute sul territorio e pochissimo coinvolgimento con le imprese dell'indotto In questo modo avendo trasferito in onshore il progetto rivediamo e ricrediamo che ci siano delle opportunità maggiori per le imprese locali Di fatti la presentazione di ieri non ha rappresentato altro che il coinvolgimento delle specializzazioni che ci sono all'interno di questo territorio e un'opportunità maggiore per le imprese locali E' chiaro che tutto questo rientra all'interno di una competitività delle imprese perché non saranno invitate solo le imprese locali ma chiaramente saranno dei bandi più ampi e qui sta nella capacità delle imprese di dimostrare la loro competitività attraverso la possibilità di poter partecipare a queste gare Cambiamo argomento e apriamo la pagina della cronaca giudiziaria con gli sviluppi sull'omicidio di sabato scorso a Riesi di Francesco Tabbi Ci sono due arresti da parte dei carabinieri tra i fermati anche il figlio della vittima Contrasti familiari legati ai beni avuti in eredità e denunce reciproche Questo è il movente dell'omicidio del 57enne Francesco Tabbi freddato da più colpi di arma da fuoco all'alba del 10 dicembre nelle campagne di Riesi Grazie alle serrate indagini del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri coordinate dalla Procura della Repubblica si è infatti riusciti a dare un volto ai probabili assassini colpiti da un provvedimento di fermo indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica eseguito nella notte tra il 14 e il 15 dicembre dai carabinieri Si tratta del pregiudicato 28enne Rocco Tabbi bracciante agricolo, figlio della vittima e del 36enne Calogero Bartoli, operaio incensurato I due fermati, legati da rapporti di amicizia e frequentazione in quanto Rocco Tabbi è fidanzato della sorella della moglie di Calogero Bartoli secondo quanto accertato dai militari avrebbero premeditato l'omicidio dopo che Francesco Tabbi avrebbe tentato di colpirli a colpi di arma da fuoco recuperato il fucile calibro 12 utilizzato per l'omicidio che Calogero Bartoli, legittimo detentore, aveva occultato in un terreno di proprietà di sua madre I due fermati si trovano ora alla casa circondareale di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida da parte del GIP Sempre i carabinieri del nucleo operativo di Caltanissetta guidati dal luogotenente Angelo Continuo hanno tratto in arresto a Riesi in flagranza di reato il 22enne pregiudicato Simone Alabiso per tentato furto di autovettura Il giovane è stato individuato a seguito delle indagini avviate dopo i numerosi furti di auto registratisi di recente nei comuni di Caltanissetta a Riesi e Sommatino Dopo aver pedinato il 22enne ai militari in abito borghese lo hanno infatti sorpreso mercoledì sera mentre cercava di rubare una Fiat Punto parcheggiata in Viale Trento a Riesi Bloccato è stato arrestato Il giovane si trova ora ristretto ai domiciliari Torniamo a Gela Far scendere il silenzio su un appalto pubblico importante per decine di cittadini non autonomi che storicamente venivano assistiti da 11 lavoratori regolarmente assunti è assurdo, oltre che istituzionalmente inopportuno lo dice Ignazio Giudice, segretario della CGL Giudice ribadisce che per due volte il sindacato ha incontrato l'amministrazione comunale che da una parte ha asserito di essere disponibile a emanare il bando pubblico e dall'altra ha disertato la riunione convocata dalla presidenza del Consiglio Comunale alla quale hanno partecipato anche i lavoratori e tutti i capigruppo consigliari E ora parliamo dei lavori che interesseranno il porto rifugio di Gela ieri altro incontro a Palermo E' stata attivata la procedura per rendere esecutivo il rifacimento del porto di Gela non c'è ancora però la valutazione ministeriale del piano di caratterizzazione propedeutico al progetto di dragaggio per poi bandire la gara E' quanto ha detto il responsabile unico del progetto e direttore della protezione civile regionale Calogero Foti durante l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palermo presenti il deputato regionale del PD Peppe Arancio, promotore della riunione il gruppo di lavoro Porto di Gela con il presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascia i consiglieri Enzo Cirignotta e Totoscerra e i rappresentanti del comitato Porto del Golfo di Gela Antonio Adragna, Ascanio Carpino e Massimo Livoti L'autorizzazione per la caratterizzazione delle sabbie del porto di Gela ancora si trova ferma al Ministero di Roma quindi se non daranno questa autorizzazione per poter iniziare i lavori di carotaggio per la caratterizzazione delle sabbie siamo fermi e quindi non possono iniziare i lavori materialmente dell'escavo del porto a Roma ci hanno detto che la commissione si chiede quattro volte l'anno quindi speriamo che i primi di gennaio ci sarà una commissione e quindi daranno questa concessione questa autorizzazione per poter fare le caratterizzazioni delle sabbie altrimenti siamo fermi qui ad aspettare chissà questa burocrazia così lenta Dunque solo dopo il parere da parte del Ministero dell'Ambiente si potrà procedere all'avvio delle operazioni di caratterizzazione delle sabbie per poi indire il bando di gara per l'avvio dei lavori La Regione ieri e la Protezione Civile ci ha detto che già hanno sollecitato queste autorizzazioni speriamo bene chi lo sa a questo punto non abbiamo più niente da fare stiamo qui ad aspettare Sarà inaugurata domani alle 18.30 nei locali del Palazzo di Città a Gela la terza mostra di presepi presepin comune realizzata dalle scuole locali promossa dalla associazione turistica Proloco l'iniziativa il cui ingresso sarà completamente gratuito manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco i presepi come simbolo di rinascita verità e giustizia frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole dell'artigiano artista della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività sarà presente anche una bancarella di beneficenza del Sonoptimist Club di Gela la mostra rimarrà aperta al pubblico fino alla 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30 durante l'inaugurazione di domani sono previsti un intrattenimento musicale con la cantante Anna Salsetta l'associazione Sergio di Dio di Antonio di Dio e degustazioni dolci e salate l'accoglienza sarà curata dagli studenti dell'istituto alberghiero diretto da Grazio di Bartolo a benedire la manifestazione sarà Don Luigi Petraria il 6 gennaio è prevista anche una pesca dell'epifania e da domani alla 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta antistante la parrocchia Santa Maria di Bettremme a Gela si terrà il presepe vivente con i tradizionali personaggi gli usi e i costumi del periodo della natività gli orari sono eseguenti dalle 18 alle 23 la mattina è dedicata alle scuole e torna il presepe vivente allestito dalla associazione smaff preseduta da Ghetano Davide Rizzi appuntamento i prossimi 25 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte e presso il dipartimento salute mentale di Gela in via Madonna della Rosario diretto da Franco Lauria il personale in servizio ha allestito un presepe per ricordare la natività il presepe può essere visitato da tutti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 dei giorni feriali e il sabato dalle 10 alle 13 l'essenziale non è ciò che facciamo ma come lo facciamo ogni giorno col cuore la gioia la passione la competenza l'entusiasmo la condivisione l'unione l'allegria la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso con questo spirito oggi l'istituto alberghiero Luigi Sturzo di Gela l'Admo a soluzione donatori midollo osseo sezione di Gela preseduta da Giacomo Giurato in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele hanno dato vita alla terza edizione del progetto Sorridiamo una giornata in allegria donata ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria sono stati consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi guidati dal docente Emiliano Sigona regali sono stati offerti anche dal consiglio comunale un dono per rendere tutto più gioioso ovviamente il Natale oltre che ogni periodo dell'anno è sicuramente il momento in cui tutti noi dovremmo aprire il cuore e cercare di donare quello che possiamo anche nel nostro piccolo non solo un regalo una cosa materiale ma anche con un gesto di affetto della vicinanza e questo è quello che noi vogliamo rappresentare con questa giornata che sicuramente rappresenta un momento di allegria per i bambini per la loro famiglia e sicuramente anche per noi perché ci arricchisce l'animo con l'alberghiero con l'admo con la presidenza del consiglio abbiamo un'interlocuzione costante e continua durante l'anno e questo che è importante magari concretizziamo il momento di comunione sotto le feste di Natale però la loro presenza e la loro sensibilità la sentiamo durante tutto l'arco dell'anno questa è solo la ciliegina sulla torta in una collaborazione che ci fa sentire veramente partecipi in un tessuto sociale ricco di umanità vogliamo regalare a questi bambini un momento diverso un momento con sorrisi abbracci condividere anche con le mamme che chiaramente stanno con i loro bambini qui in ospedale per allontanarli dall'idea di essere in un ospedale perché comunque l'idea che un bimbo stia dentro l'ospedale non è una gran bella cosa soprattutto sotto Natale lo sforzo che noi facciamo ma dovremmo farlo tutti i giorni aiutare gli altri metterci nei panni degli altri e in questo modo ADMO lo sta facendo il messaggio che noi diamo alla fine è accogliere tutti questi bambini dargli allegria gioia felicità e non apparire come un ospedale noioso un ospedale che porta alla fine anche guarigione ai bambini che sono tra virgolette malati e niente portiamo allegria e facciamo divertire un po' di più bambini domani alle 10 presso la sede della scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei in via Butera Gela si darà la manifestazione dedicata alla giornata dell'Unicef dal titolo il minore e i suoi diritti a coordinare l'iniziativa sarà il dirigente scolastico Agata Gueli saranno presenti Carmelo Baretti rappresentante dell'Unicef e infettivologo l'assessore comunale Licia Bela e Viviana Altamore avvocato civilista dopo i momenti di riflessione e gli interventi sui diritti dei minori Don Lino di Dio benedirà e inaugurerà il presepe di cioccolato un presepe artistico interamente realizzato con prodotti dolciari prevalentemente con cioccolato arricchito da biscotti zucchero e salatini la giornata si concluderà con il sorteggio e la vendita di prodotti tipici realizzati dalle mamme degli stessi alunni della scuola e il cui ricavato sarà devoluto a favore dell'Unicef previsti degli interventi musicali a cura di Ottavio Ducchetta e domani alle 10 sarà inaugurata la nuova biblioteca scolastica della scuola primaria Enrico Solito diretta da Clizia Nobile sarà intitolata alla memoria del maestro Orazio Goldini che ha insegnato in quella scuola per tutto il tempo della sua carriera lasciando un ricordo indelebile nei suoi alunni tutto nasce dall'iniziativa di una classe particolare quella formata dagli ex alunni del quinquennio 1964-69 che ha avuto l'onore di avere come guida il maestro Goldini i quali al momento della scomparsa del maestro avvenuta un anno e mezzo addietro hanno ritenuto più opportuno al posto di comprare un mazzo di fiori di regalare ciascuno di loro un libro alla scuola primaria che avevano frequentato più di 50 anni fa durante l'iniziativa di domani sono previsti tra gli altri gli interventi del sindaco Domenico Messinese dell'assessore all'istruzione Licia Bela e del dirigente scolastico Crizia Nobile per la famiglia parlerà la figlia di Orazio Goldini la professoressa Maria Concetta Goldini e per gli ex alunni Cristoforo Cocchiara Fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi fiaschi senza paglia barattoli e vasetti bicchiere e brocche solo se in vetro non cristallo vetri vari anche se rotti contenitori vari in vetro per alimenti e non senza tappi e o altri materiali diversi Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile Cosa conferire? Avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto siamo ritornati seconda parte del telegiornale dopo lo straordinario successo della seconda edizione di Gela in Arte l'associazione Gravita Zero torna ad offrire alla città un nuovo evento in canti di Sicilia canti e poesie della nostra terra sabato 17 dicembre alle 18.30 presso la sala della musica del palazzo della cultura principessa Roviano Pignatelli i partecipanti potranno intervenire ad una manifestazione canora ideata per dare voce alla tradizione dialettale siciliana che nel tempo ha espresso diversi cantautori di fama nazionale che hanno portato in giro per l'Italia il carattere e il sentimento del popolo siciliano i protagonisti della serata saranno Anna Salsetta voce vincitrice del premio Radio 2016 del Sanremo Music Awards nella finale tenutasi a Monte Carlo Francesco Greco pianoforte insegnante di musica pianista tastierista e arrangiatore e croci a tardi voce artista poliedrico ideatore e fondatore dell'associazione Quattro Amici al Bar attore di teatro e promotore di diversi corsi teatrali la Confo Commercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza si tratta del corso responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore rischio basso e del primo soccorso di 12 ore rischio basso e medio gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Confo Commercio Ascom Gela in via Cicerone dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 c'è anche un numero telefonico 0933 9397 18 il centro storico a partire da sabato 17 sino al 26 dicembre si trasformerà nella città del Natale regalando ai nissegni e non solo l'atmosfera tipica delle feste villaggio di Babbo Natale porta magica via dell'arte via dell'ingegno il presepe vivente animazione di vario genere con elfi angolo della solidarietà concerti e tanto altro animeranno il cuore della città per dieci giorni ad aprire la manifestazione sarà sabato prossimo alle ore 17 l'inaugurazione dell'albero dei desideri realizzato con la collaborazione degli istituti comprensivi della città seguito dalla parata di Natale la visita al laboratorio degli Elfi e alla casa di Babbo Natale a concludere la prima giornata l'esibizione di Luca Monastero comico del laboratorio di Zelig un'idea quella di Caltanissetta città del Natale promossa dalla quinta commissione consigliare cultura sposata dall'amministrazione comunale è un'idea che è nata nella commissione che mi onoro di presiedere che è composta dai consiglieri bruzzaniti del popolo Maira Bellavia Giugno e Romano è un progetto al quale abbiamo lavorato da tempo che abbiamo presentato all'amministrazione che lo ha condiviso e ha demandato diciamo l'organizzazione alla Proloco crediamo sia un segnale perché è un progetto che tenterà di essere inclusivo al massimo abbiamo coinvolto le scuole la Croce Rossa il mondo dell'associazionismo tantissime realtà gli scout diciamo che all'interno di questo progetto che noi consideriamo una sorta di contenitore ci sarà un po' tutta la città una commissione giovane una commissione di persone che vogliono spendersi per la città dove non si guardano colori dove si vuole lavorare tutti insieme per fare qualcosa di costruttivo che non riguarda soltanto mi auguro il Natale sia una prospettiva nuova o una stagione nuova a coordinare gli eventi che si susseguiranno sino al 26 dicembre sarà la proloco di Caltanissetta i punti più importanti e più qualificanti sono la casa di Babbo Natale che si terrà qui all'interno del palazzo comunale giù nell'atrio poi avremo un punto food un punto di assaggi culturali diciamo dei prodotti sinissimi avremo avremo un punto artigianato chiamato dell'ingegno dove ci saranno delle esposizioni di attività locali ma soprattutto ci sarà divertimento per i bambini un trenino che porterà in giro questi bimbi le letterine di Natale che potranno essere consegnate naturalmente ci saranno concerti in varie chiese al palazzo Moncada Oltre ai Parigi il libro di Salvo Andò e Anna Lucia Valvo che sarà presentato domani alle 17.30 nell'ex chiesetta San Biagio di Gela nell'ambito dei venerdì letterari promossi dalla libreria Mondadori e dall'assessorato comunale alla cultura saranno presenti gli autori introdurrà i lavori Angela De Maria e adesso parliamo di calcio il Gela medita di ritirarsi dal campionato dopo i torti arbitrali subiti domenica scorsa a Lentini e dopo la decisione assunta ieri dal giudice sportivo di far giocare la prossima gara casalinga alla compagine bianca-azzurra a porte chiuse un consiglio di amministrazione straordinario per decidere tempi e modi per ritirare la squadra dal campionato per analizzare tutta la vicenda con particolare attenzione ai gravissimi torti arbitrali subiti nella gara Sicula Leonzio Gela di domenica scorsa a Lentini e sulla quale sarà preparato un dossier per la Lega Nazionale di Lattanti di Roma al fine di difendere l'immagine del club e dei tesserati bianca-azzurri si terrà sabato prossimo alle 12.30 e quanto stabilito nelle ultime ore dai vertici del Gela la goccia che ha fatto traboccare il vaso è riconducibile alla decisione assunta ieri dal giudice sportivo Aniello Merone della Lega Nazionale di Lattanti che analizzando il referto scritto dall'arbitro Alberto Cadastini di Pisa è andato giù pesante nei confronti della formazione allenata da Pietro Infantino la squadra bianca-azzurra domenica prossima il Vincenzo Presti con la Sarnese giocherà a porte chiuse sempre se giocherà la decisione è stata motivata dal fatto che durante il secondo tempo della gara di domenica a Lentini i sostenitori bianca-azzurri si legge si sono resi responsabili di avere lanciato sputi all'indirizzo dell'assistente di linea attingendolo ripetutamente alla schiena e alle braccia ad aggravare la posizione dei tifosi del Gela sostiene il giudice arriva pure il lancio sempre all'indirizzo dello stesso assistente arbitrale di una pietra che sorvolava la sua testa per andare a cadere successivamente sul rettangolo di gioco la società bianca-azzurra che oltre al danno di una sconvitta ingiusta maturata per alcune decisioni arbitrali discutibili ha subito anche la beffa è stata multata di 1800 euro e tutto questo come dicevamo non è andato giù alla dirigenza che per sabato ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario appuntamento con la musica domenica 18 dicembre alle 19 nella chiesa Sant'Antonio di Gela è previsto il resital pianistico di Nicolo De Maria e questa sera alle 21 dopo il successo straordinario ottenuto ieri viene ripetuta la rappresentazione teatrale alla Cine e teatro antitodo di Macchitella a Gela con la compagnia omonima la compagnia antitodo Emanuele Giammusso e Guilamo Greco porteranno in scena una casa di pazzi noi abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti